Mario Cordone, allenatore del Campo di Piedra, arriva alla vittoria agevole sul 19-19, anche se forse l'atteggiamento finale non è tanto piaciuto. L'atteggiamento finale che vuol dire? Un po' di superficialità da parte dei tuoi? Ma no, ci può stare. Sono quattro mesi che portiamo dei ritmi elevatissimi, anche oggi, diciamo certo che poi la partita di per sé a volte ti frena, nel senso che c'erano un po' di ritmi bassi, però anche oggi questi ragazzi hanno dimostrato che possono fare bene e penso che la partita ormai non è stata mai in dubbio, è stata da nostra parte. Assolutamente no, poi hai dato spazio anche un po' a chi gioca di meno. Ma non è un discorso di far giocare chi gioca di meno, è un discorso che questo è un gruppo che meritano in tanti e giustamente faccio delle scelte e poi è giusto che effettivamente poi chi ha qualche minutaggio deve anche recuperare e queste sono quelle partite adatte. Mister, questa come detto tu e la prossima, queste sono due partite che vi servono al grande obiettivo vostro, che è la finale, adesso andate a Termoli contro una squadra che comunque gioca in casa e è indecifrabile perché comunque aveva perso la settimana scorsa proprio con il 19, quindi comunque in casa loro giocheranno alla morte. Se uno guarda la classifica, le partite avessero già un risultato scritto, ma purtroppo il calcio insegna che non è così, il calcio è fatto di stimoli, è fatto di episodi, è fatto di momenti. Insomma, naturalmente siamo in un buon momento, dobbiamo continuare così, hai detto bene, prima è il Termoli, bisogna fare dalla nostra parte questa partita rispettando gli avversari e cercare di portare a casa tre punti. E poi l'ultima settimana ci dedichiamo ormai, non ci nascondiamo più all'evento più importante per questa società, per questa dirigente, per questa squadra che poi è la finale di Coppa. L'obiettivo mister è portare al top della condizione in quella partita? Io penso che siamo già da un bel periodo, abbastanza bene, certo che lavoriamo anche su questo.